Cosa è emerso dall'incontro di oggi? Era un incontro operativo, organizzativo, perché una mobilitazione di cittadini a Roma non è una cosa semplice. Abbiamo anche dei tempi ristretti. Il 2 marzo non è molto lontano. Quello che ho chiesto ai sindaci è di organizzare un pullman per ogni comune. Abbiamo affrontato i dettagli operativi, vi compresi anche quelli dei costi. A tal proposito c'è stata qualche polemica? Qualche sindaco si è sentito un po' di serie B rispetto ai comuni un po' più grandi? No, diciamo che c'è stata una richiesta al presidente della provincia assolutamente legittima. Visto che è tutto il territorio ad essere colpito e a tutto il territorio si chiede solidarietà per andare a Roma, che i territori non siano di serie A, di serie B e che in particolare non si ponga attenzione solo ad alcuni comuni rispetto ad altri. Le differenze ci sono, perché i comuni sono del cradere e altri fuori del cradere, però è evidente che la situazione di maltempo ha generato un dramma e una crisi economica su tutto il territorio, anche quelli non direttamente colpiti. Quindi la risposta sarà una risposta di tutti e le risposte che se arriveranno dovranno arrivare in favore di tutti.